Via! Grazie a tutti per aver visto questa trasmissione, è stato un piacere presentarvi i nostri progetti che abbiamo fatto con tanto impegno. Questa è la fine? Allora, alla fine tutte le macchine sui presentatori, perché è l'ultima immagine che noi diamo. Voi andate di prima, via! Allora, di nuovo, applauso! Grazie a tutti, è stato un piacere presentarvi questi progetti svolti in questi due anni e siamo molto felici di aver fatto questa esperienza! Sì, vi avete fatto questa esperienza! per avere altre occasioni! Sì, sì, sì! E adesso sì, sì! Sì, sì! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti!